Ieri buongiorno ragazzi, sesto giorno della mia via francigena in bicicletta, ho lasciato da 10 minuti l'ostello di Capannori e oggi tappa abbastanza breve sui 60 km, 65 penso, ma da oggi in poi ho messo proprio tutte tappe di questa lunghezza perché voglio godermi i paesaggi, voglio godermi la Toscana e niente, si comincia a pedalare, il sole è già bello caldo e per fortuna fino adesso mi ha sempre sostenuto il clima, quindi va tutto bene ragazzi, vi aggiorno poi sulla strada. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Certo che questa zona di bosco con questa strada in acciotolato di origini antiche in questo modo è sicuramente un posto suggestivo e incantevole, ma farli con una gravel senza ammortizzatore e con tutte le borse da bikepacking? fai la strada tutta così, tutta così, vabbè si prosegue ragazzi. Grazie a tutti. Ho appena passato San Mignato, penso si veda là in fondo e oltre alle salite oggi di nuovo come il primo giorno si è alzato da un'oretta questo vento qui, ed è di nuovo dura, ed è di nuovo dura, in più ci sono le salite come quella lì, vedete? All'8%, 10%, hai voluto la bicicletta, Giappino, mo' pedali. Musica Avete presente che di solito al centro delle rotonde, nell'ai vuole, c'è il cartellino che ho scritto questo verde, è curato dalla botanica Tal Dei Tali. Ecco, in questa rotonda è curata da... sto c***o! Musica 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 Ok, dovrebbero mancarmi solo 6 km da Gambassi Terme dove dovrò alloggiare questa notte, saranno tutti di salita tipo questa, però guardate che panoramiche regala, stupendo, veramente stupendo. Si fatica per farsi rifare gli occhi dalla natura. Musica 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 Buongiorno, ieri sera credo di non avervi neanche più salutati ma perché appena sono arrivato all'ostello c'era già un bel po' di gente, mi sono messo a chiacchierare, poi doccia e cena tutti assieme quindi niente, vi ho aggiornato adesso